Ciao a tutti ragazzi, oggi voglio presentarvi questa luce della Night Provision, la BX1002 già l'avete visto a Tor Vergata quando ho fatto le 24 ore l'ho provata al circuito Tor Vergata ma là il circuito Tor Vergata è tutto illuminato quindi non si vedeva la vera potenza di questa luce oggi la voglio provare insieme a voi nel garage il garage è totalmente al buio e quindi possiamo vedere la potenza di questa luce ragazzi e vi posso assicurare che è veramente potente vi faccio vedere come si inserisce, vedete, questo comodo clip è molto piccola, molto stretta diciamo stretta e lunga però bella pesante, veramente veramente una bella luce questo clip, vedete, la inseriamo in questo modo, guardate ecco, sentite il clip eccola là, è molto carina esteticamente, non è incombrante e poi la durata è di 7 ore andiamo qua nel garage, come vedete nel garage c'è la luce esterna però se noi giriamo comincia a diventare buio ora qua è quasi del tutto buio accendiamo la nostra luce ok, così è illuminato guardate, è uno spettacolo, ha illuminato tutto il garage non so se vi rendete conto che potenza ha questa luce vediamo, così si spegne ok, così è quella più potente meno potente e più leggera che già questa fa una luce abbastanza potente ho illuminato un garage ve la farò vedere appoggiata al muro è accecante accendo un attimo la luce del garage ecco, così ora è accesa la luce del garage così è tutto illuminato del garage spegniamo questa luce è acceso quindi fa più luce questa luce veramente, veramente potente ve la spengo così vi faccio notare quanto è buio allora, a me piace moltissimo ha una durata, come ho detto prima, di 7 ore io ve la consiglio metterò il link in descrizione Night Provision modello BX1002 spero che questo video vi sia piaciuto noi come al solito ci vediamo al prossimo video e mi raccomando iscrivetevi al canale è gratis ciao iscrivetevi al canale